Bentornati, bentornati cari amici in questo video di due giorni dopo la partita Oggi parliamo un po' così pur parliamo, oggi non facciamo Oggi non facciamo pagellazzi, nel senso che io mi trovo in difficoltà nel dar dei voti a dei ragazzi Che voglio dire l'obiettivo era vincere, quindi l'obiettivo non è stato raggiunto Però è stata una partita obiettivamente di livello, obiettivamente giocata con personalità Con una grande capacità di mettersi in campo contro un avversario secondo me tosto e che è rosa alla mano E una delle più competitive perché voglio dire una squadra che si permette di tenere in panchina Tra Moni e Sibilli che poi li abbiamo visti entrati e fanno loro l'azione al 93esimo che Boris fa un miracolo Vuol dire che una squadra prima allenata da un incompetente, secondo allenata, cioè secondo con una grande rosa Secondo con una grande rosa Comunque, e questo lo penso sinceramente, cioè secondo me il Pisa dei playoff potrebbe essere una con le rose migliori effettivamente dopo la nostra Io vorrei un attimo ripercorrere i momenti dall'arrivo di Ragneri ad oggi Come è passata la rivoluzione tattica e dagli uomini, insomma da chi è passata nella modulistica e negli uomini Per poi arrivare a come la gestirei io adesso, cosa farei magari di diverso e come migliorerei ulteriormente la situazione Faccio questo video perché effettivamente mi sono reso conto che magari nel post partita potevo essere risultato troppo critico nei confronti di Ragneri Che secondo me ha fatto degli errori con il Pisa Però effettivamente, cioè stiamo parlando di una squadra che con Liberani, ragazzi io non voglio parlare serie C cose Ma voglio dire, non era neanche così remota l'ipotesi di trovarsi in un playoff con l'andamento che c'era con Liberani Perché poi a un certo punto della stagione, tutti da dietro iniziano a vincere, uno si inizia a sentire un po' così Cos'ha? E io li conosco i miei polli, cioè il Cagliari si fosse mai trovato adesso per esempio in zona playoff Il Cagliari rischiava fortissimo perché non è una squadra abituata, cioè è abituata a quella cosa in serie A Ma è una cosa diversa come percezione anche dell'ambiente, essere lì in serie A ed essere lì in serie B Quindi Ragneri ha veramente stravolto il Cagliari e gli ha dato veramente una voglia di vincere una determinazione sicuramente diversa Dov'è che passa? Qual è il passaggio chiave in questa storia? Allora lui è arrivato e ha capito, come dicevo da inizio anno e continua a pensare Ma forse non ci sono giocatori con tutte le caratteristiche per farlo Che il modulo da fare era un 3-4-1-2-3-5-2 Lui c'è da dire una cosa, lui si vede che non si sentiva di giocare con un centrocampo a due mezzali così Mezzali, mediani, quello che vi pare, ovvero un 3-4-1-2-3-4-2-1 come volevo io Ha fatto un 3-5-2 che è stata un'alternativa giustissima Ha trovato solidità alla difesa Poi però all'interno di questo Ambaradan lui è stato anche molto bravo secondo me È stato molto bravo perché io infatti non sono allenatore, lui lo è Io in molte circostanze avrei sinceramente osato di più Avrei osato di più col Cittadella sopra di un uomo Avrei onestamente messo la squadra in un modo diverso Avrei provato a fare un po' più l'arrembaggio gli ultimi minuti Noi invece siamo stati ancora molto coperti Viste le circostanze, visto il momento del Cittadella e quant'altro Ma non solo questa, c'è anche altre partite È stato veramente molto conservativo Perché ha capito che comunque quei pareggini messi assieme ci avrebbero probabilmente E ci porteranno, speriamo, e probabilmente ai playoff E comunque ci stanno tenendo ancorati al quarto posto Il che vuol dire forse fare una partita in meno Comunque avere uno scontro in casa Insomma, roba abbastanza interessante e importante Che andrebbe raggiunta anche sul Tirol L'abbiamo visto contro di noi È una squadra assolutamente scarsa, abbordabile Quindi bisogna arrivarci a quel punto lì Quindi sicuramente Ragnieri ha capito e ha colto Che i problemi erano anche in un sistema di solidità difensiva Andato sulla difesa 3 La difesa 3 ci ha dato molta solidità difensiva Però non ci dava le alternative offensive Non ci dava le alternative offensive, chiaramente E allora Allora io onestamente avrei fatto una variazione di modulo Che era il 3-4-1-2 Perché lo continuo a ripetere Io non penso e non sono fiducioso Nei cambi di percezione di un giocatore da un giorno all'altro Cioè Zappa, se le diagonali ha avuto problemi per due anni e mezzo a farle a Cagliari Non penso sia diventato un fenomeno a farle diagonali Azzi, se nasce come esterno alto Non penso sia un fenomeno a farle diagonali E ripeto ancora questa cosa Quindi in una difesa 4 Quelli che sono stati due punti di forza in queste partite di rinascita generale del Cagliari Quei due punti di forza o paura possano essere anche dei punti di debolezza del nostro Cagliari Quindi bisogna fare molta attenzione Bisogna stare sull'attenti E non pensare di poter andare sempre a farle sgroppate avanti Perché poi rischiamo l'inculata Quindi Azzi, Zappa Io li avrei voluti in un centrocampo a 4 per questo motivo Perché dietro c'era un difensore dell'A3 che li coprivano A3 comunque solidità Mi dà più sicurezza Mi dà più sicurezza alla squadra E quindi io l'avrei impostato in questo modo Fatto sta È riuscito E in più ci sarebbe stato un trequartista Che diciamo È l'alternativa che sta figa rivoluzionando il calcio Cioè semplicemente c'è Mancosu che è diventato Lazzaro Però attenzione Di qua arriviamo a come puoi la gestire io Attenzione Mancosu Mancosu Giocatore che sta veramente decidendo e determinando in un modo clamoroso Ma ragazzi l'abbiamo vista la tenuta fisica di Mancosu L'abbiamo visto Mancosu quando non è in forma Che giocatore inutile è Mancosu Ad oggi è clamoroso Ma lo vogliamo portare i playoff in uno stato di forma ottimale? Lì ci serve ottimale Lì ci serve ottimale Visto che Falco non sta a giocare Cioè mi chiedo Ma Falco è così scarso da non poter giocarti 60 minuti contro il Pisa? Cioè non lo so Ragazzi veramente sono domande non retoriche Mi gradirei risposta anche da voi Perché poi magari voi mi dite No serve l'11 migliore Serve la cosa così Sì sì va bene ok Cioè Mancosu ti gioca 80-90 minuti ogni domenica Mancosu secondo me quel minutaggio non ce l'ha Secondo me quel minutaggio non ce l'ha Non ce l'ha Non ce l'ha Cioè ma non ce l'ha nel senso che Tra sette partite Se lui gioca 90 minuti tutte È problematica poi la cosa È problematica la cosa Arriva ai playoff Che non è più al top della condizione È stato calante È in stato calante Io voglio arrivare ai playoff Non con 11 Con 16 giocatori 15 giocatori Che sono al top della condizione E lì si sale E lì si fa la differenza in campo Passando comunque a chi ha svoltato La stagione La stagione del Cagliari Allora il primo è Boris Il primo è Boris con degli interventi clamorosi Ma perché Boris Perché Boris Ha avuto un inizio Con dei grassi Con dei grossi down Con degli errori Con Dell'uscita vuoto Con Momenti un po' di Di appannamento Di Di difficoltà Ma poi ha fatto un percorso di crescita totale Cioè Totale Però Qui ripeto ancora una volta Le critiche se le si fanno inizio anno Arrivi adesso Che ti devi Cospargere il capo di feci Cioè devi cagare Prendi la tinozza Tiratela in testa E poi chiedergli scusa Chiedergli scusa Perché se no Qua adesso Ognuno tira le sentenze Le cose E poi Non sa Riportarsi sui suoi passi Perché Boris Perché non si chiama Alessio Cragno O quant'altro La verità è Questa Che Cragno In questi anni Ci ha nascosto Dei portieri Che sono molto più forti di lui Che sono molto più forti di lui Perché Vicario Rispetto a Cragno Vabbè Non ne parliamo neanche Olsen Per quello che ha fatto vedere a Cagliari Non ne parliamo neanche Mi sento di dire Che anche Che anche Radunovic Se il percorso di crescita è questo È molto più forte di Cragno È molto più forte di Cragno E lo ripeto Ma con veramente Grandissima franchezza Sicurezza e certezza Quindi Boris È un protagonista E lui Con una difesa Che ha acquisito Veramente Grande Personalità Grande sicurezza È riuscito A migliorare Nel rendimento E È È determinante Perché ieri Sai poi È una partita Dove se il Pisa Non è quel punto Che cambia Il problema sarebbe stato Il Pisa Avesse avuto Tre punti E noi zero Che sarebbe stata Oltre una beffa Clamorosa Ma Voglio dire Veramente Anche a livello di classifica Sarebbe stato Un bel problema Poi Per quanto riguarda Il Per quanto riguarda Invece la difesa La difesa Passa Attraverso Dossena Dossena Che sta facendo Un girone di ritorno Clamoroso E anche qui Ripeto i concetti Cioè io Dossena Lo vorrei Veramente Al top Del top Nei playoff Cioè Dossena È un giocatore Che i playoff Li deve giocare Da titolare Perché se li è meritati Perché se li è meritati Perché uno che fa Prestazione del genere Merita Di giocarsi la finale Playoff Con 20.000 Spettatori Che Ancora un po' Si fanno le pippe Su di te Ok Quindi merita di giocarsi I playoff Però Anche qui In queste giornate In queste giornate Vogliamo un attimo Farlo rifiatare Farlo riposare Un secondino Farlo riprendere Un attimo E avercelo al massimo I playoff Io non voglio Boicottare Dossena Vi sto dicendo Che è da lui Che è passata la rivoluzione Dietro E quant'altro Gli uomini di Ragneri Stiamo cercando Quindi Vogliamo Far rifiattare Dossena Ripeto Non abbiamo dei brocchi In panchina Come centrali Non so quanti In Serie B Abbiano Goldaniga Altare In panchina Come centrali Cioè con tutto il bene E penso Che anche loro Quest'estate Se ne vadano Quindi o si sale Quest'anno O il prossimo anno Non avremo più Questo privilegio Ce l'abbiamo Perché non lo usiamo Perché non lo usiamo E qui rientriamo Nelle cose Che adesso agirei Meglio Ma ci arriviamo Poi la rivoluzione Passa perazzi E le sue sgroppate Attenzione Però alla fase difensiva Spero ci stiano lavorando E alle sue sgroppate E l'asse L'asse Devastante L'asse di guerra Faccio nazista Adesso Millico Spunta No Mi dissocio Mi dissocio Azzi Lella E questo è l'asse Che ha devastato In quelle partite E che sta devastando ancora Le occasioni più importanti Derivano da Azzi Lella Cross dentro Cioè quando Quei due Fraseggiano Quando Lella Si inserisce Arriva in area E qui che c'è la svolta Tattica Cioè chi ha permesso Questo modulo E questo Questa pericolosità Davanti Che non c'era mai stata Anche se adesso Sono due partite Che non segniamo Ma comunque La pericolosità C'è Siamo poco concreti Però io Va bene Questa situazione Sarebbe peggio Non essere neanche Pericolosi Quando Lella Va in area Crea quella Superiorità Di uomini Che prima Che non ha nessuno Nelle corde Quel tipo di inserimento L'unico Che ce l'ha similmente Ma meno Ed è Iola Che però Viene Ah 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 Il mostro Il mostro di Firenze Quindi Lella È stata La chiave A centrocampo Che ti ha permesso Quella cosa lì E io voglio ben sperare Io sapete Rogue lo amo Lo adoro Ma io voglio ben sperare Che Rogue Da qui a fine anno Cioè allora Lo vuoi fare Secondo me è anche inutile Ecco su Rogue Ha fatto un discorso diverso Cioè Rogue Ha dimostrato Talmente Ripetutamente Di essere un giocatore Purtroppo In gran difficoltà Non voglio usare altri termini Secondo me Averlo al top E per i playoff Non dico che sia inutile Però Vediamo Vediamo Anche qui Preferirei avere un De Jova Dal top Ai playoff Come Rogue De Jova al posto di Rogue Sì Preferirei avere De Jova Al posto di Rogue Quindi E qua passa anche la Qua passa la vera chiave Azzi-Lella Lella-Azzi Ok E poi vabbè Voglio dire Mancosu Lazzaro Ne abbiamo parlato La Padula al solito Ma l'altra svolta Incredibile Prelec Perché Prelec Che sta Nessuno ne sta parlando Ha fatto degli errori Clamorosi sottoporta In queste giornate Ma Prelec Guardate Che poco alla volta Io sto vedendo Un ragazzo Che sta crescendo Anche lui In un percorso di crescita Un 2001 A 21 anni E arriva da un campionato Sicuramente più facile Un campionato diverso Con meno tatticismi Anche se comunque Era la Serie A Austriaca E quindi Qui arriva Il bello Cioè Secondo me Il bello Di avere Una punta Una punta Con quel fisico 2001 Adesso vedremo Se avrà i colpi Lo vedremo Però Io sinceramente Dovesse fare Altre sette partite Come quella Fatta contro il Pisa Io non mi sentirò A fine stagione Di dirgli Sei un bidone Sei una merda Fai schifo Non mi sentirò Di dirgli questa cosa qui Non mi sentirò Di dirgli questa cosa qui Anzi Anzi Poi è chiaro Un attaccante Deve anche sbloccarsi Dal punto di vista Realizzativo Uno mi diceva Eh ma fa solo Lavoro sporco Eh ma ti pare poco E poi ripeto La padula Da solo in attacco Non può giocare E questo è un grosso enigma Cioè Equivoco La padula Può giocare solo Con un altro A fianco Di quella stazza Ok Bene Quindi Cosa invece Andrei ora A Gestire meglio Arriviamo Al dunque Io andrei a gestire meglio Tutto il discorso Di cambi Primo di tutto Perché Non è possibile Che si fanno due cambi Quando ne hai cinque Col Pisa Perché è brutto Anche per i ragazzi In panchina Perché vuol dire Che non ti fidi Dei ragazzi in panchina Perché è da Roba lecita Però ragazzi Lo ripeto Ancora una volta Cioè Curfalidis Luvumbo Goldaniga Altare Deiola Viola Cioè Sono giocatori Che io personalmente Li vorrei recuperare Falco Li vorrei recuperare Cioè Capite di quanti giocatori Stiamo parlando Viola stesso Viola Per quanto mi riguarda Come regista È molto più valido Di Macumbo È molto più valido Di Macumbo Cioè Macumbo Non fa un passaggio Non fa un lancio Non fa un lancio Lanci lunghi Macumbo Non sa cosa sia Non fa i passaggi corti Non li sbaglia Ha un bel baricentro È coordinato Riesce a fare tanti giochetti E cose Va bene Va bene Ma io voglio un regista Che mi faccia Un lancio di 40 metri Voglio un regista Che mi sappia Battere i corner Le punizioni E quello si chiama Nicolas Viola Quindi anche qui Altri equivoci Macumbo Non è un regista Macumbo Non è un mediano Ne abbiamo parlato Inizio anno Ne ho parlato Dopo aver visto Le prime amichevoli Tutti Ah no Ma guarda È un regista Abbiamo svoltato Il regista Ma che cazzo dite Non è un regista Non è un regista Non è un regista Quindi Viola Andrebbe inserito Poco alla volta Perché non gioca Dall'era di Cristo Però Andrebbe inserito Stesso discorso Per Falco Perché Falco Ragazzi Non è possibile Che sia diventato Un brocco Falco Ha avuto Sempre Negli anni Dei colpi Incredibili Dei colpi Incredibili Dei colpi Incredibili In serie B In serie A Cioè non è possibile Non ha 40 anni Ne ha 32 Quanti ne ha 31 Cioè è già da rottamare Come giocatore Cioè non lo so Boh Io lo inserirei poco alla volta Poi voglio dire Io Sono contento Che questa formazione Adesso abbia una chimica Una cosa Ma non la facciamo giocare Non facciamo giocare Questi 11 Per le prossime 7 partite Cioè questi arrivano Ai playoff Ammesso Io non concesso Che ci arrivino Senza infortuni Ma arrivano ai playoff Che sono già spompati Inseriamo qualche alternativa Poco alla volta Cioè Anche Nandes Corre tantissimo Ma io Vorrei provare Un Kurfalidis Una volta Al posto suo Lì Magari al posto Di Lella Per farlo rifiattare Una volta Fai fare 60 70 minuti A Deiola In quella posizione Con lo stesso ruolo Di Lella Anche se ha caratteristiche Un po' diverse Cioè Facciamo Delle Delle modifiche Lì Anche i centrali Ne abbiamo già parlato Ok Sulla tre quarti Appunto Mancosu Facciamolo un po' Questo gestirei Diversamente Io voglio Ragazzi Vogliamo salire Tutti assieme Si sale tutti assieme Ma non si sale In 11 Perché ragazzi Poi Si arriva in finale Playoff Al Al centesimo Dei supplementari Partita decisiva Ti guardi dietro E dici Ma chi cazzo Faccio entrare Cioè Perché nessuno Poi si sente partecipe Nessuno Quindi Anche Paradossalmente Adesso Capradossi È infortunato Ma anche lui Cioè Voglio dire Il Cagliari Ce li ha I giocatori Da cui Da cui Da cui Ripartire Per certe Cioè Per ripartire Nel senso Per cambiare Per rifare Fiatare Al Non siamo L'ultima Delle arrivate Ok Un bacione Ciao a tutti